Musica Quarto di cucina per i bambini, quest'oggi uno snack veramente buono e veramente sano. Recuperando che cosa Fabio? Recuperando il croccante che abbiamo fatto con i semi, ricordiamo il miele, il miele di acacia, caramellato, con dentro i semi di lino, papavero, sesamo e un pochino di farina di mandorle. Lasciato freddare e poi abbiamo ragionato insomma assieme, se io o no ai bambini secondo noi sì, perché una piccola tartinetta da 10 grammi, io la penso di abbinare con tanta frutta, quindi fare proprio dei piccoli canapè, croccantino di base, quello l'ho fatto con le mele, possiamo farlo con le fragole. Ah, che per le feste dei bambini veramente? Questa è proprio una bella idea per le feste, invece di fare il solito canapè o tartina o pizzettine, no? Riusciamo a dargli una cosa che è veramente di gusto, perché è 50% croccantino e 50% frutta. Bellissimo, mi sembra veramente carino questo piatto, se siete curiosi e se non l'avete visto come si prepara un buon e sano croccante, vi invitiamo a vedere le altre nostre puntate su www.nonsolobenessere.tv Grazie a tutti.